L'industria alimentare della Campania è danneggiata dalle vicende della terra dei fuochi. I produttori e associazioni consumatori hanno fatto analizzare in Germania il prodotto simbolo di quella terra, la mozzarella DOP. Vediamo i risultati nel servizio di Matteo Parlato. Noi con questo programma che abbiamo lanciato in collaborazione con l'associazione dei consumatori abbiamo dimostrato che non esiste un solo dato analitico che dimostri che il nostro prodotto non è sano. Pensate che in termini per esempio di diossina il nostro prodotto contiene, cioè il risultato più elevato che abbiamo ottenuto è di 10 volte più basso rispetto al limite previsto in Italia e in Europa. Più sicuri di così davvero non sappiamo come dimostrare al consumatore la cura con cui realizziamo questo prodotto. La terra dei fuochi ha prodotto un danno ambientale ma anche uno di immagine con un calo del 35-40% nelle vendite dei prodotti tipici campani. Il consorzio della mozzarella e le maggiori associazioni dei consumatori si sono unite per rispondere ai timori dei consumatori e a Roma, Milano e Napoli sono state comprate mozzarella e DOP in modo casuale, poi inviate in Germania per farli analizzare e dopo tre settimane sono arrivati questi risultati. L'alleanza tra produttori e consumatori continuerà. Per noi questo è un punto di partenza, vogliamo continuare con l'associazione dei consumatori a dimostrare, cioè ad avere un dialogo stretto con il mercato. Una raccomandazione per i consumatori, mai comprare mozzarella e sfuse a meno che non vengano dagli spacci dei caseifici, da dove devono comunque uscire confezionate con tutti i dati prescritti per legge.